... Anni fa ho scalato il tuo fratellone. Già, una delle cose più strane che abbia mai trovato. Un dublone spagnolo nascosto in un sottomarino tedesco nel cuore della giungla. Perché mai? Sir Francis Drake si è immolato per Saline. Che trio. E' un dublone. Sambala. Mi manchi amico? Sambala. Sambala. Grazie tante, Santisma. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Va bene. Centro. Non farti accerchiare, Nate. Nuovo in pista. Fatevi sotto. Teccatemi questa. Devo andarmene da qui. Sì, sì, arrivo. 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 Wow. Wow. Questa è bella. 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 Ah, attima. Ok, fatto. Hai finito? Sì. Sai, no? Forse è lungo e pieno di errori di battitura, ma esistono i revisori, giusto? Oddio, che fame. Sembra buono. Dunque, come è andata oggi? Cosa? Non si è capito niente. Scusa, scusami. Com'è andata oggi? È andata bene. Classica giornata da sogno. Ho ripescato spazzatura dal fiume. Già. Ma almeno ti sei fatto una nuotata. Hai trovato rifiuti interessanti? No, un vero cimelio. Era primo ventesimo secolo. Un camion. Autentico. Pare che i nativi lo chiamassero autocarro. Oh, mamma mia. Sì, insomma, sai, le solite cose. Dimmi del tuo articolo. Allora, era nato come un articolo leggero sul turismo a Bangkok, ma dubito che la rivista apprezzerà il taglio che ho deciso di dargli, perché tutti quanti hanno iniziato subito a parlarmi del problema dello smog, di come ti colpisca dritto ai polmoni non appena metti piede giù dall'aereo, quindi... Ho fatto subito un'inversione ed è diventata un mezzo riguardo... Che c'è? Dove sei? Sono qui, torturato da una forchetta. Cosa? Davvero? Che c'è? Non fermarti. Era interessante. Oh, sì. Bene. Bene. Di che parla l'articolo? Scusa? Quale? Questo? Dei voli per Bangkok, che sono sempre più difficili, perché c'è un sacco di smog e non possono atterrare. Wow. Va bene, mi spiace. No, è stato coraggioso. Ci sono andato vicino. Vicino è un parolone, ma sì, c'eri quasi. Jameson ti ha proposto ancora il lavoro in Malesia? Jameson mi propone sempre il lavoro in Malesia. Senti, Nate, penso proprio che dovresti accettare. È che non lo voglio. Davvero? Per prima cosa non hai permessi. E si era stabilito che non avremmo più preso lavori così. D'accordo, ma... Non ne vale la pena. Non sembra così tanto rischioso. Se il problema sono solo i permessi... No. Puoi chiamare Sullivan. Da quant'è che me lo vedi? Due anni? Possiamo chiudere il discorso. Va bene, ma non voglio che rinunci per colpa mia. Rinuncio perché non voglio farlo, ok? Apprezzo il tuo gesto. È solo... Allora vado di là a lavare questi piatti. Sì. Ferma, faccio io. Ma dai, l'hai lavato ieri. Aspetta, tu hai cucinato, io lavo, tranquilla. Insomma, almeno... Almeno lascia che me la guadagni, in qualche modo. Potremmo... Giocarcela. Vorresti giocartela? Sì. Sì, con il tuo giochino elettronico. Scommetto che posso battere il tuo record. Pensi di poter battere il mio record nel giochino elettronico? Sì, e tu hai paura. Ma non sai neanche come si chiama. Non mi serve sapere come si chiama. Ti ho vista giocare. Devi saltare e correre. E io ho un talento naturale per questo. Ah, davvero? Allora, che ne dici, pollo? Scommettiamo? Oh, wow. Ok, fenomeno. Ok, guarda e impara. Ah, non vedo più. Tutto qui? No, deve caricare. Caricare? Sì. Ci sta mettendo parecchio. Non hai pazienza. Quando accendi qualcosa ti aspetti che... Ok, ci siamo. Qualcosa non va? No, no, è che... Come fai a... Come si inizia? Premi il tasto start? Lo sapete. Ci sono. Ok, devi correre verso la telecamera. Ciao! No, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti.